E' partita, la raccolta differenziata di rifiuti a Canicattì è già una realtà. Da sabato non ci sono più cassonetti lungo le strade, ormai è iniziata l'era dei Mastelli. La start-up prevede un periodo di studio per un servizio al quale i cittadini devono abituarsi. Signora, lei è un commerciante del centro storico di Canicattì, da quanto tempo fa la raccolta differenziata nel suo esercizio commerciale? Differenziata quando ha iniziato? Una settimana fa almeno. I cassonetti sono sufficienti secondo lei? Veramente per cartone no, per resto non ci sono problemi, però come da noi cartoni sono assai. E' importante fare la raccolta differenziata, per voi è un aggravio in più, oppure lo fate piacevolmente? A me mi fa piacere perché sono già abituato con la raccolta differenziata, ovvio da inizio ci viene difficile per tutti, però è questione di abitudine, tutto qua. Purtroppo stamattina si è visto qualche sacchetto di troppo gettato qua e là, laddove prima c'erano i cassonetti o appoggiato in prossimità dei tronchi degli alberi. Dopo un breve periodo iniziale, ha annunciato il sindaco Ettore di Ventura, sarà tolleranza zero contro gli incivili, inizieranno a fioccare le multe. Intanto c'è chi ancora non ha ritirato i kit, alcuni cittadini hanno segnalato che si sono recati al centro San Domenico per il ritiro dei Mastelli, ma non ci sono i kit disponibili. La ditta non ce li ha e quindi si lascia il nominativo, un recapito telefonico e si attende di sapere quando poter iterare il materiale. E nel frattempo cosa si fa? Come si smaltiscono i rifiuti? Per il momento basta lasciare i rifiuti in un sacchetto davanti alla porta di casa rispettando il calendario di conferimento che prevede per le utenze domestiche il lunedì, il mercoledì e il sabato l'organico, composto tra l'altro da scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, fondi di caffè, cialde non plastificate, filtri da tè, piccole potature di fiori. Il martedì e il venerdì saranno raccolti i Mastelli gialli per plastica e metalli, compreso l'alluminio, mentre la carta e il cartone nel Mastello blu saranno raccolti il mercoledì. Per il vetro nel Mastello verde scuro il giorno fissato e il sabato, mentre per il secco residuo o indifferenziato i cittadini potranno esporre il Mastello grigio il giovedì. Discorso a parte per i pannolini per la cui raccolta sono stati fissati quattro giorni che sono il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì. In questo specifico caso si dovrà fare un'apposita richiesta al comune o agli uffici dove si ritira il materiale per il porta a porta in modo da avere un preciso indirizzo e precise disposizioni per questo genere di rifiuto.